Regaliamo una chicca perché i personaggi che stanno per entrare, la signorina che suona il violino è bulgara, pensate un po', bulgara, della bulgarenza, e poi invece il signore che suona la fisi armonica, la fisi armonica piccolina, è italiano, si chiamano Fausto Ferrari, lei si chiama Sali, insieme ci presentano Venezia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.